Ciao a tutti sono Francio e oggi siamo qui in questo nuovissimo video Spero ovviamente che si sentirà decentemente anche se mi avvicino Più mi avvicino più diventa sexy Oggi sono qua per testare la potenza Me lo sono chiesto e ho detto possiamo provarci? Possiamo riuscirci? Non lo so, che dovrò fare sarà testare la forza del mio avambraccio Questi ragazzi saranno gli oggetti che verranno utilizzati per girare questo video qua Vi faccio vedere un po' di cosa si parla ed ecco qua il gripper Adesso vi faccio vedere tutti i gripper Abbiamo questo qua che sono 45 kg Numero 2, qua sono 68 kg Numero 3, 91 kg Il gripper numero 4, ovvero questo che è quello di colore nero e sono 114 kg Gripper numero 5, rosso Qua sono ragazzi 136 kg E mentre l'ultimo, eccolo qua la bestia Qua sono 159 kg Non so ancora quali di questi riesco a chiudere E vediamo un po' se riesco a chiuderlo Allora si afferra così un gripper Si prende in mano In questa maniera devi andare a fare una conca Devi agevolare un minimo l'afferraggio sull'altra mano usando due dita della mano opposta E prendiamo e Easy Moliamo e chiediamo E 1 Ora passiamo al gripper numero 3 Che non ce l'abbiamo fatta Oggi è il 5 gennaio Il video uscirà dopo Gesù Cristo della Madonna Uscirà dopo tantissimo Oggi ragazzi è domenica 5 gennaio 2020 Andremo durante questi giorni a fare degli allenamenti E voglio far vedere il mio progresso durante questi giorni Bene, io vi lascio al video Godetevelo, guardatevelo fino alla fine Per scoprire se sarà riuscito a chiudere il maledetto gripper da nero da 140 kg Oggi è il mio primo giorno di allenamento e sfida Devo proprio sfruttare tutto il tempo che ho Oggi è il giorno numero 5 What? What? Buona domenica Accento Si, cazzo, si Si, cazzo, si Cento di filo Cento di filo Buongiorno a tutti Abbiamo ancora tutta la giornata per allenarci con il gripper E cercare di raggiungere il gripper numero 4 Ciao, oggi è il 25 gennaio E ieri purtroppo non ce l'ho fatta Ma oggi spero di farcela I need to run and stay out of sight Had no choice, it was me or them Not for a lifetime, I'm condemned I need to run and stay out of sight I'll go to prison or die by the night They tried to kill me when I fought back I cracked the scots with a baseball bat No justice will never make this right I need to run and stay out of sight Had no choice, it was me or them Not for a lifetime, I'm condemned I could forget my own sad way of life Prison or die by the night I need to run and stay out of sight C'è mio nonno Ciao nonno Nonna Oggi ne sono sicuro cazzo che riuscirò a chiuderlo Ora c'è l'altro spero della scuola Si va via Ah merda E prepara Se tu vuoi una cosa devi provarci E se ci provi probabilmente puoi anche farcela Oggi Sì, sì, sì. Oddio! Oggi chiuderò il diritto. Io, ragazzi, me lo sento. Ce la faremo a chiuderlo, cazzo. No, io sono no perché oggi voglio uscire a chiuderlo. Mi sono voluto a chiuderlo. E poi il pezzo di me, a chiuderlo. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. L'ho toccato ragazzi 9.32 del 13 marzo Eccoci qua ragazzi Dopo 68 giorni Abbiamo iniziato la sfida dicendo Di riuscire a chiudere questo E dopo passati due mesi Siamo riusciti a chiuderlo E ora ci riprovo Oh due volte di fila In un mese mi sarò allenato una settimana L'altro mese ovvero questo qua Mi sarò allenato sempre anche meno E non ho fatto le cose come devo fare Perché se probabilmente mi fosse allenato Una volta al giorno, una volta ogni due Probabilmente l'avremmo chiuso entro un mese Adesso easy Anzi adesso ci riprovo E così tanto perci Voglio riprovare Oh Tre volte di fila Questa è la prima puntata Di sfide impossibili con Francio Grazie a tutti Ciao ragazzi Ma non una ragazza che fatica No, 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 no Grazie a tutti. Grazie a tutti.